Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniti E io sono Steph e benvenuti in questo nuovo vlog E finalmente oggi andremo a rispondere alle vostre domande facendo il nostro primo fuck Come sempre, sai, abbiamo deciso di complicarci la vita Perché abbiamo ricevuto tantissime domande e abbiamo deciso di rispondere proprio a tutte Esattamente, lo sapete bene che non ci piace fare le cose a metà Quindi visto che ci avete fatto delle domande carinissime Abbiamo detto, no ma questa non possiamo rispondere, questa non possiamo non rispondere Alla fine risponderemo a 70 domande Ovviamente per farlo abbiamo dovuto pensare a un modo E quindi guardatevi, facciamo vedere un attimino Questo è quello che ha fatto Feriniti per tipo tre giorni No, allora tu stai facendo vedere due pagine ma in realtà sono quattro Perché ho suddiviso praticamente tutte le domande simili per argomento Per riuscire un po' a rispondere a tutte quante Perché davvero leggerle tutte sarebbe impossibile Quindi diciamo che quelle simili le abbiamo racchiusi in argomenti E poi risponderemo alle domande singole Ho fatto un lavoraccio, ci ho messo Infatti il vlog sta uscendo proprio in ritardo per questo motivo Perché ci ho messo una vita a raccoglierle tutte E sarà il vlog più lungo di sempre Quindi preparatevi e siamo pronti Iniziamo, iniziamo da uno degli argomenti più scottanti Uno dei più richiesti Ok, mi piace, mi piace Una cosa un po' birichina Sono due gli argomenti che sono stati più richiesti E sono la nostra passione per YouTube e come ci siamo conosciuti Li ho un po', diciamo, dato dei titoli Gli ho dato anche dei titoli Dal quaderno si vede che ho dato dei titoli a ogni argomento Basta, sembro ridicola in questo momento Iniziamo? Sei pronta? Pensate che ci tenevo, ho fatto tutto ordinato Non ci interessa Comunque sì, sono pronta Allora, io me la guardo da qua perché altrimenti me la dimentico Quindi iniziamo con passione YouTube Perché questo è il titolo che le hai dato a queste domande Sei pronta? Sì, allora, io non ho bisogno neanche del quaderno Quindi puoi anche metterlo da parte Come si vanta Sono tutto a memoria Ok, allora inizia, prego Allora, diciamo che la domanda principale sarebbe Come è nata la nostra passione per YouTube? Ok Perché abbiamo deciso di fare video? È perché abbiamo deciso di farli assieme Questa cosa quindi Da chi è nata quest'idea? Come, diciamo, chi è che ha detto Apriamo un canale o cose del genere? Ok E anche del nostro vecchio canale Ci hanno fatto diverse domande Ci hanno chiesto perché lo abbiamo abbandonato Poi c'è qualche domanda un po' diversa Ma l'andremo a vedere meglio nello specifico Perfetto Allora, partiamo subito Prima di tutto Molti di voi non sanno che Noi abbiamo iniziato su Twitch Facendo streaming Prevalentemente di League of Legends E lì avevamo iniziato Semplicemente perché ci piaceva giocare a League of Legends al tempo Ci divertivamo e tutto Sì, sì, sì E volevamo, diciamo, mostrarlo agli altri Cioè, avere un contatto diretto con delle persone Che ci guardavano a giocare E chiacchierare in compagnia Insomma, una cosa tranquilla Principalmente perché siamo sempre stati soli Quindi abbiamo detto Magari avremmo la Non c'è bisogno di dire La possibilità di conoscere qualcuno Di farci nuove amicizie Di trovare persone Cioè, con cui giocare Esatto Si voleva guardare soltanto Siamo iniziati a divertire di più Abbiamo capito il potenziale YouTube Che comunque permette di creare qualcosa Creare dei contenuti rispetto a Twitch Dove prevalentemente si gioca e basta E qui diciamo che ci siamo innamorati di YouTube E abbiamo totalmente lasciato perdere lo streaming E abbiamo iniziato semplicemente a registrare Comunque quello era il canale Shelter Games Che a un certo punto abbiamo deciso di abbandonare Perché facevamo un video al giorno Non avevamo tempo minimamente per lavorare alla qualità E non eravamo minimamente soddisfatti Non ci divertiva a registrare quasi nessun video Perché appunto Non eravamo soddisfatti di come li facevamo E quindi abbiamo avuto bisogno Diciamo di prenderci del tempo Per lavorare sulla qualità Sul migliorare proprio noi stessi Su come registrare E abbiamo deciso di fare la folla idea Perché ogni volta facciamo le cose in modo drastico È stata molto drastico Sì, è stata molto drastico Di lasciare quel canale E aprirne direttamente uno nuovo Ovvero 2Players1Console E ora siamo felicissimi, no? No, io adesso sono felicissima Guarda, adesso lo posso dire In ogni caso potete stare tranquilli Col nuovo canale ci divertiamo tutti i giorni Credo che si vede dalle facce Siamo anche 8 ore Quanto ci passa? Ora spesso e volentieri Passiamo anche 8-9 ore Soprattutto dovendo anche rispondere ai commenti la sera Poi la mattina appena ci giochiamo Arriviamo anche a 8-9 ore al giorno Però siamo felicissimi Siamo super soddisfatti Adesso che c'è anche Pokémon Go E possiamo fare una cosa ancora diversa Siamo ancora più felici Quindi tranquilli che qua non ci fermiamo No, adesso sono davvero felice Allora Sì Abbiamo diciamo spiegato un pochettino Il nostro percorso Siamo già troppo lunghi Secondo me Per tutte le domande che dobbiamo fare Ci stiamo mettendo troppo Tu fai finta di nulla Al massimo dura un'ora e mezzo Va bene 20 ore di upload Mi piace Volevo rispondere a qualche domanda Nello specifico Perché c'è qualche domandina Che è un po' diciamo diversa Da quelle che abbiamo già detto Allora Questa è una domanda un po' scottante Però anzi Mi fa piacere rispondere Ci chiedono principalmente Se abbiamo mai pensato Di abbandonare YouTube O sospenderlo La sospensione Direi che si può contare Anche Shelter Games chiuso E dopo mesi A per 2 player Facciamo finta solo per 2 player Su un console Quindi da quando è iniziato lì E per me no Io sinceramente Anche se è molto dura In certi momenti Tu fai delle cose Davvero Dove lavori tantissimo E non vedi i risultati Che vorresti Non vedi che stai crescendo Come vorresti E così via Anche se è dura Non ho diciamo Non ho mai cambiato idea Lei È un altro discorso Lui è una persona Lui è una persona molto forte Di carattere Io sono una pippa Adesso E vabbè Ascolta Lo voglio dire Non voglio dire Cavolato Praticamente una volta La settimana Non ce la faccio più Voglio mollare Non ce la faccio più Sono stanca No aspetta 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 Con 2 players Sono molto contenta Sono molto contenta Di 2 players Quando invece facevamo Shelter Games E lo streaming Specialmente perché Lo streaming era pesantissimo Sì Ho pensato un sacco di volte Di mollare Soprattutto perché Alla fine ci dedichi Tutte le tue energie E tutto il tuo tempo Tutte quelle cose Non vedi risultati Perché Shelter Games Era davvero un disastro Sotto quel punto di vista Esattamente Quindi diciamo che In certi momenti Mi butta davvero Tanto giù È complicato È difficile Cioè Magari sembra tutto bello Stare su YouTube Però per me è stata davvero Una cosa Dura da sopportare Però adesso diciamo Che sono contenta Però sì Ho pensato diverse volte Ma perché davvero Ti butta giù insomma Passiamo alla cosa Un po' più tranquilla Ci avete chiesto Se abbiamo pensato A un nome per i fans E soprattutto se vogliamo Darne uno Ce ne avete proposto uno Che a me è sembrato carinissimo Perché sapete bene Che la nostra fantasia Con i nomi È sempre fantastica No ci pensiamo Da una vita Non c'è mai venuto in mente nulla È arrivata Chiara Chiara 34 Dico bene Il suo nick E ce ne ha proposto Uno fantastico Che sarebbe I consolini Esattamente Ditemi che non è bellissimo Ditemi se vi piace Perché secondo me È fantastico E ci sta troppo bene Un'altra domanda Che ci avete chiesto È chi edita i video E se faremo dei gameplay Dove gioca anche Feriniki Allora Bella domanda È una domanda molto bella Chi edita i video Li edito io Lei fa le copertine Ma quando io finisco Di editare il video Lo riguardiamo assieme E decidiamo se va bene Dopodiché lo pubblichiamo Quindi è un lavoro di squadra Anche lì Invece la grafica L'ha fatto totalmente lei Io giusto guardo Dico due consigli Perché Anche qui in ogni caso Gli chiedo consigli Io magari do l'idea Ma non so fare minimamente nulla Con Photoshop Mentre per i gameplay Ragazzi Ci piacerebbe fare più cose Dove giochiamo Entrambi Ma i giochi Sono abbastanza Quelli che sono Molte volte escono solo con single player E quindi ci accontentiamo un po' Comunque Minecraft e Roblox Ci permettono di farlo Quindi vogliamo Puntare abbastanza Su queste due serie Per fare appunto Un po' di gameplay In cooperativa Io avrei preferito fare Molti gameplay in cooperativa Ma purtroppo Non escono tanti giochi Insomma Il problema è solo quello Perché a me piacerebbe Tantissimo giocare nei video Allora Ultima domanda Penso che comunque Siamo riusciti a farle tutte Questa è davvero una domanda Ancora più scottante Di quella di prima I video li fate per passione Per i futuri money 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 Ok E perché avete deciso Di intraprendere questa strada Di Youtube Italia Vabbè Quella piavano abbiamo già risposto Ok Allora Questa sì È una domanda già un po' diversa Principalmente Noi facciamo Youtube Perché ci diverte Cioè Molte volte ad esempio Capita che ci prendiamo Tipo lavoriamo tre giorni Ci prendiamo un giorno di riposo Per rilassarci E in quel giorno Proprio arriviamo ad annoiarci Perché non stiamo registrando Perché non stiamo registrando Non stiamo lavorando sul canale Da quanto ormai fa parte di noi È quello che facciamo tutti i giorni E ci diverte tantissimo Ovviamente però ragazzi Essendo la nostra passione Essendo quello che ci piace Noi in futuro vorremmo Renderlo il nostro lavoro Semplicemente perché Se diventasse il nostro lavoro Sarebbe la cosa che Potremmo fare 24 ore su 24 Tutti i giorni Esatto Esatto Il motivo è questo Credo che si vede Che la passione c'è Perché attualmente Non facciamo praticamente Nessun tipo di guadagno Cioè Anzi Forse una banana e mezzo Direi Sì Più o meno lì Eppure ragazzi Ci vedete Tutti i giorni Lavoriamo Nessuno ci fa fare Di rispondere ai commenti Tutte queste cose Le facciamo perché ci piace Ci piace Lavoro tanto YouTube Ed è proprio questo Il motivo per il quale Vorremmo guadagnare dei soldi Da qua Per poterlo fare Ancora di più Avere più attrezzatura Poter fare meglio Ad esempio I video di Pokémon Go Poter fare tante altre cose Che abbiamo in mente Ma che non possiamo fare E quindi Speriamo di arrivarci Alla fine c'è Vogliamo anche essere sinceri Penso che chiunque Abbia una passione Che sia lo sport Che sia magari disegnare Arte Tantissime cose Sogna dentro di sé Di poterla rendere un lavoro Alla fine Cioè è bello È bello Perché E 10.000 iscritti Scriviamo libro Non ci provare No facciamo pena come scrittori Guarda tutto ma non libri Non uscirà mai Un nostro libro Alla fine quindi dico Cioè Penso che possa essere bello E oltretutto Perché abbiamo deciso Di intraprendere questa strada Diciamo che è iniziato Un po' per gioco Un po' per provare qualcosa di diverso Alla fine Ci è piaciuto talmente tanto Che non riusciamo più a mollarlo Infatti anche nei giorni liberi Cioè vogliamo sempre fare qualcosa Perché ci piace talmente tanto Nuovo argomento Ok Questo sei come l'ho chiamato? Sì Fail Perché in pratica Diverse persone ci hanno chiesto Sia quale è la nostra caduta più divertente I nostri momenti più imbarazzanti Disastro più disastroso Insomma Le cose più terribili Che abbiamo combinato Ok Hanno già capito Che siamo persone Che capitano spesso queste cose Probabilmente Sì è così Allora Storia imbarazzante Sto pensando Caduta più divertente Non saprei dirti quale Perché io cado Tipo un giorno sì E gli altri tre pure Sinceramente Io che fortuna non cado Mi capitava quando facevo parkour Ma più che divertenti Mi spaccavo davvero Quindi Da ridere c'è da poco Io ho le caviglie deboli Quindi mi capita spesso di cadere Ma stai zitta Guarda Lasciamo perdere Per quanto riguarda La cosa più imbarazzante Che ci è successa Eravamo assieme Io ho una storia fantastica Lei ne ha fatte tante Ma non se ne ricorda una in particolare Io ne ho una bellissima Allora Praticamente Però eravamo insieme Quindi conto anch'io Dai No non conti Perché la figuraccia L'ho fatta solo io Questa è epica ragazzi Credo che nessuno Mi possa battere Con una cosa del genere Praticamente sono andato A fare una visita Durante la visita E' esplosa la corrente No è saltata la corrente E c'è stato un blackout In quella zona della città Gigantesco Davvero grande Durata una mezz'oretta E praticamente Ho dovuto aspettare Per finire la visita Quando sono andato via E praticamente Ancora la corrente Non era tornata Tu stai già rilendone Mentre E il mio cervello Non ci capiva più nulla Anche il tuo cervello Ha fatto blackout Esatto Perché ovviamente Mi hanno finito la visita Con i generatori Che hanno loro di riserva Certo E praticamente Il dottore mi ha fatto Dai tranquillo La fattura non ti ha Posto a fare Perché non c'è la corrente Piuttosto che stare qua E aspettare Che magari passeranno Altre quattro ore E te la mando Via apposta Io non so perché Ho pensato Ah quindi devo pagare Via apposta Quando mi manda la fattura E ho preso E me ne sono andato Te l'hai andato senza pagare E è uscito fuori E poi te ne sei accorto Dopo molte ore Me ne sono accorto Un'oretta dopo E sono tornato il giorno dopo A pagare la visita Per fortuna Ci hanno avuto già da qualche anno Quindi almeno Non hanno pensato Che fossi un ladro O cose del genere Quindi Mi sono salvato in corno Però Era colpa del blackout Dai Ancora imbarazzo Perché tra qualche mese Devo rifare quella visita Spero che non se lo ricordi più Perché sarà imbarazzantissimo Una cosa che ci avete chiesto Che ci piace tantissimo Domande sulla musica Ovvero i nostri cantanti Slash cantanti 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 femminili Cantanti Cantanti insomma E allora Sono tanti Ascoltiamo tantissima musica Però visto che Dobbiamo rispondere a troppe domande Non ci dilunghiamo su questo Anche se ci verrebbe da parlarne 20 minuti solo di musica E ci puoi contare Per quanto riguarda i cantanti Maschile Ad esempio ci piace tantissimo Ad entrambi Ed Sheeran Perché non so se lo conoscete Ma seguendo Ad esempio Un concerto in live È molto diverso Da solo le canzoni Che si sentono normalmente Alla radio È davvero bravissimo Mentre femminile Sia Spacca davvero tutto È bravissima È bravissima Ci piace tantissimo Io vorrei anche dire Che per lo più Ascolto band Io adesso non so se Ci hanno chiesto Cantanti singoli o band Perché allora La lista delle band Non interessa nessuna Aspetta In questo momento Non ve la posso fare Perché sarebbe infinita Ok Per ora rispondiamo i cantanti Poi se vogliono qualche domanda Nello specifico Ce la faranno Insomma vi sta chiedendo Di rifarvi le stesse domande Per il prossimo pack Perché voglio parlare di musica Così avrà tempo Per parlare di musica Va bene Esatto esatto Domanda singola Oldino Figo ci chiede Vi piacerebbe tornare piccoli E se sì Perché Allora Personalmente no Semplicemente perché Mai nella vita Da piccolo non ho chissà Quei bei ricordi Che mi fanno nostalgia E sinceramente Da grandi Si ha la libertà Di fare quello che si vuole Si hanno più soddisfazioni Quando comunque Si riesce a fare qualcosa Cosa ne so Io a dieci anni Giocavo a calcio Vincendo una partita Ero felice Quando sei più grande E fai qualcosa E la fai bene Hai una soddisfazione Che è mille volte più grande Perché capisci esattamente Cosa stai facendo Quindi per me Non c'è paragone Allora per me no Semplicemente perché Io ho fatto tutti gli anni Della scuola Comunque delle mie infanzi Ad essere proprio la bambina Che veniva presa in giro Da tutti Poverina È stato un inferno Per me tutta la scuola Guarda finché non l'ho finita È stata davvero un inferno Quindi direi che sono Molto più felice Di essere cresciuta Di avere la mia indipendenza E poi oltretutto In questo periodo della mia vita Io sono molto felice Quindi sinceramente Non mi piacerebbe tornare indietro Perché sono a posto così Bella questa risposta Vero? Bella Bellissima Attore preferito Per me ce n'è soltanto uno In questo momento Che è Leonardo Di Caprio Che è davvero bravissimo A me piace Da quando tipo dieci anni Avevo le sue magliette Con la stampa Quando aveva dieci anni Non era molto bravo Mi ha migliorato tantissimo Quando io avevo dieci anni Lui non era molto bravo Ok Negli ultimi dieci anni Sta facendo un sacco di film bellissimi È davvero davvero bravo Ci piace un sacco Ed è anche bello Credo che abbiamo visto Sì è vero È bello è un nerd di caprio Credo che abbiamo visto Praticamente tutti i suoi film E ci piace davvero un sacco Magic Simmer invece ci chiede Che consiglio dareste a qualcuno Che ha appena aperto Un canale youtube Tipo io Ok Questo è abbastanza semplice Cercare di essere originali Cercare di portare Molti video Molti contenuti E soprattutto Bisogna essere autocritici Molto autocritici E capire cosa non va bene Cioè Non è che se magari Una persona a fianco a te Fa diecimila visualizzazioni Con un video Che per te fa schifo Vuol dire che Tu non ti devi impegnare di più No devi cercare di capire Cosa puoi migliorare Sempre nel tuo di video E continuare a migliorare Giorno dopo giorno E piano piano La gente se ne accorgerà Di solito E una cosa vorrei anche dire Che secondo me È molto importante Riguardate sempre i video Prima di pubblicarli Perché mi capita di vedere Canali piccoli Che chiaramente non li riguardano Perché si dimenticano Di fare taglio O cose del genere E anche quello È molto molto importante Secondo me E ricordatevi Se il video non fa ridere a voi Non farà ridere neanche agli altri Esattamente È molto importante Che vi divertiate voi stessi Quando fate un video Prossima domanda Riguardano gli anime e i manga Prima di tutto Anime preferito Quindi cartone animato preferito Dell'infanzia Allora Ne guardavo tantissimi Ma ragazzi Come mi faceva emozionare Dragon Ball dal tempo Proprio nient'altro Quindi per me A mani basse Dragon Ball Senza dubbio Per te Io ne ho troppi Tipo Dragon Ball Sailor Moon Quella con la tipo Del fiocorosso Ma quello che ti piaceva Di più di tutti Senza paragone Dai Non ce n'era uno di più Probabilmente più Sailor Moon Allora Sono ragazza E volevo diventare anche Una paladina della giustizia Infatti adesso lo sono Adesso lo sono Mi trasformo anche io Vado a fare Giustizia della città Poi ci chiedono Se ci piacciono gli anime e manga Vorrei dire che qui dietro Abbiamo una libreria Totalmente piena di manga Quindi direi di sì Se voglia vi faccio una bella foto Per farvi vedere Perché andrebbe sistemata Un attimino Prima di fare una foto Abbiamo tantissimi manga E guardiamo ancora di più Gli anime Sono davvero tantissimi Guardiamo tutti Quegli stagionali che escono Esatto Ogni stagione ne escono tanti E ci guardiamo tutti quelli Che ci piacciono Di ogni stagione Siamo proprio nerd E finalmente Tra videogiochi e anime E comunque I preferiti Ci sono per me Durarara E Klanad Penso che non li conoscete Perché non sono Tra i più famosi Ma sono davvero belli Quindi se vi piacciono Gli anime Guardatevi Concordo su cui due Poi voglio aggiungere Anche Kokoro Connet Che l'abbiamo visto da poco Mi è piaciuto tantissimo È stato davvero bellissimo Poi sempre Allora Discorso anime Ci chiedono anche Se potreste fare un cosplay Lo fareste E se sì Di che personaggio Io qua ho Gianni da in mente Ok dimmi Io allora Anche se poi non è il mio anime preferito Però lo vorrei fare di Yuno O di Mirai Nikki Perché secondo me È un personaggio davvero figo Come è fatto È secondo me Un cosplay Ovviamente adesso Non sto pensando a livello di soldi Quanto ci vorrebbe Dico ipoteticamente Potrebbe risultare davvero figo Io invece vorrei fare I tachi di Naruto Perché Naruto Mi piace molto E mi piace tantissimo Quel personaggio È troppo figo È troppo 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 figo Quindi mi piacerebbe tantissimo Un cosplay su di lui Poi anche tanti personaggi di videogiochi Però forse lui è quello Che mi piacebbe davvero di più Perché è troppo figo È davvero bellissimo Comunque in cartone animati da bambini Mi piaceva un sacco anche Olly e Benji È vero Olly e Benji Vabbè è fighissimo Era innamorata di Benji Ma in una maniera incredibile Cioè proprio innamoratissima Volevo sottolinearlo Poi avete mai sogniato di essere Di supereroi Se sì quali Iron Man Iron Man anche io Semplicemente perché È quello più reale Cioè tipo fra dieci anni A livello di tecnologia Magari ci siamo abbastanza vicini Poi penso un sacco Ad essere ricco E soprattutto Essere ricco Sì ovviamente Come chiunque E invece penso che Iron Man Sia una cosa realistica Che si può raggiungere Con la tecnologia Quindi mi piace Perché dico Prima o poi diventerò Iron Man Quindi Feriniki Tra dieci anni Molla YouTube Per fare Iron Man Esatto Quindi la vedo La vedo una cosa Realmente plausibile Quindi per quello Mi piace Perché spero di esserla Anch'io Altra domanda Sulle fiere Allora ci avete chiesto Infatti anche Oltre al Nel FAQ Ci avete chiesto Un sacco di volte Se faremo mai dei raduni Delle fiere E così via Come ormai sapete Bene o male tutti Viviamo in Sardegna Precisamente a Cagliari Di conseguenza Per fare un raduno Andare a una fiera Dove ci sarebbero Tanti di voi Dovremmo prendere un aereo E attualmente È un problema Ci piacerebbe tantissimo A fare degli incontri Sinceramente Non mi piacerebbe Partecipare alle fiere Perché c'è davvero Un sacco di casino Siamo un po' claustrofobici Ma mi piacerebbe Invece Ci mette ansia la folla Esatto Ci piacerebbe invece Organizzare degli eventi Personali Cioè fatti da noi Più specifici Più personali In modo da poter pensare Anche a delle attività Da fare assieme a voi Insomma qualcosa Di più elaborato Io avrei un sacco Un sacco di idee Guarda Avendo magari soldi Per viaggiare Poter organizzare Una casa del genere Mi verrebbero in mente Un sacco di cose da fare assieme Piuttosto che Magari andare a una fiera Dovete fare la via La fila E ciao ciao E non ci vediamo più Esattamente Sogniamo di fare qualcosa Speriamo che in futuro Ne avremo le possibilità Perché sarebbe davvero bellissimo E ci piacerebbe tantissimo Ok ragazzi Ci fermiamo così Ci siamo accorti Che è davvero impossibile Farli tutti in un video Quindi dividiamo Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Abbiamo uscito Un'ora e dieci Di registrazione Quindi dividiamo In due parti Questo vlog Fuck E facciamo così Quindi ce la gestiamo Così in due parti Scusate Ci avremmo dovuto fare Tutti in una parte Comunque La seconda parte La facciamo uscire Entro qualche giorno Massimo Tipo giovedì Una roba del genere Così avete entrambe le parti E niente Noi ci abbiamo provato Comunque Siamo felicissimi Grazie mille per le domande Ci vediamo domani Ciao ciao Ciao